Voi pensate che quest'anno veniamo a Modena e facciamo turistini ormai? No, si studiano il gioco, si vede qualcosa interessante, si compra un gioco e invece no Anche quest'anno veniamo su e vi rompiamo le scatole Eh, certo Come facciamo a rompere le scatole? Se no non ci divertiamo, non ci basta più un semplice gioco E facciamo il gioco nel gioco col video in sezione Bentornati sul canale di Rolling Come avevo pronunciato pochi secondi fa Perché sono passati pochi secondi Per voi Per cui sono passati voi Quante ore Come avevo pronunciato quindi questa è una Modena Daremo fastidio a chiunque Però per il primo anno, cioè per la prima volta Facciamo un annuncio ufficiale con Zittimaia Bravo E cosa diciamo? Che forse non saremo noi a venire da dare fastidio Ma vi aspettiamo per darci fastidio In che modo ci venite a bussare sulla spalla In qualsiasi componente Che porta questa maglia Questa maglia scusate No quella è la maglia O la felpa Esatto E semplicemente partirà la sfida In cosa consiste La sfida è semplice È molto 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 simile alla sfida di Miss Meeple Che abbiamo avuto a Luca La sfida non sarà esattamente come quella di Miss Meeple Ma sarà una sfida tra tutti i giocatori Cioè avrete un top di immagini da riconoscere 10 della decisione Esatto Poi E via Da quando arrivano BAM Sono 300 E invece no Saranno 10 Sarà perché dovrò farla io I dati saranno 10 100 lo fisse Ok Vi faremo vedere 10 immagini In queste 10 immagini Chi riuscirà a indovinarle Il maggior numero Vincerà E siccome Io credo che voi siate molto molto bravi Quindi tu ti darà 10 immagini Esatto Chi farà il capo migliore Noi vi cronometreremo E vabbè Grazie Brava Cosa si vince però Perché effettivamente uno dice Vabbè io mi vado Allora gli vado a dare fastidio Ma Ma Non lo so manco io Che si vince Non lo sai Io invece lo so Ma non ve lo dico Allora che cazzo Il vincitore si aggiudicherà Un gioco alla tavola Chiaramente Tra quali giochi Uno dice Ma non è che me ne frega Voi Cercheremo di portarvi Un gioco interessante Tra Tra quelli usciti Più di recenti Esatto Una delle ultime uscite E quindi vi basta soltanto Bussarci una spalla Fare questa sfida E vincere il gioco Esatto Molto semplice Noi saremo lieti di accogliervi Chiaramente ci piace Siamo disponibili a foto Autografi Su magliega Ma è chiaro Esatto Su pezzo Su quello tipo Dovunque Anche su una mia pancia Firmeremo qualsiasi Voi avremo filmate Su la pancia No? Potremmo metterci Tutta modena Tutta modena Ci potete scrivere E a parte che scherzi Veniteci a salutare Noi saremo lieti Di risalutarvi E giocare con voi E niente Ci vediamo Ciao 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 How far can we get If we sail A little bit higher Ciao ciao Grazie per la visione!